Che non è vero è, quando vengono in casa, per andare al stadio, a venire la rossi, per andare a vedere, quando vengono in casa, per andare al stadio. Un anno, un anno. Un anno, da un anno che stanno qua, che si sono viste tutte le partite, giusto? Noi siamo qui d'Erasmus. Ah, sono qua d'Erasmus? Sì, di Erasmus. Sono qui d'Erasmus e si sono appassionati direttamente di questa squadra. Il tifoso è da piccolo. Poi ti fate il Bari perché siete qui d'Erasmus, è la squadra della città o perché vi piace particolarmente? No, a me mi piace il Bari da piccolo perché io sono un appassionato del futbol e il Bari è un club speciale, una squadra speciale. Quindi in Spagna seguivi anche il Bari? Sì, sì, sì. In Madrid ha una pegna del Bari, è un gruppo di tifosi del Bari. In Madrid c'è un gruppo di tifosi del Bari? Sì, sì. È nel mio town, il pueblo, non so come si dice il pueblo. È nel tuo paese, nel tuo paese. Ecco perché hai scelto di venire qua ad Erasmus, a Bari? Certo, io sono tifosi del Bari a piccolo e io vorrei venire qui ad Erasmus per il Bari. Quindi hai scelto Bari perché ti piaceva la squadra? Probabilmente. Antenucci è il mio giocatore preferito, da piccolo. Io sono tifosi di Antenucci particolarmente, dei tempi della Serie A di Antenucci.